Se dico circo, a cosa pensi? Anno 1768, un uomo prende un palo e lo pianta nel terreno, poi prende una corda, una corda come questa, la lega forte intorno al palo, all'altro capo della corda ci lega un cavallo, ci sale sopra, ma anziché sedersi comodamente sulla sella, ci sale in piedi e inizia a fare incredibili acrobazie a cavallo, lui è Philip Asley e non sa che tracciando a terra quel cerchio ha appena inventato la prima pista da circo del mondo. Grazie a tutti. Se dico circo, a cosa pensi? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.